Il Vangelo del giorno di Pentecoste di quest'anno, 31 maggio, anno A, è un brano del ventesimo capitolo del Vangelo di Giovanni, versetti dal 19 al 23. Il brano stesso è la prima parte del Vangelo che abbiamo già ascoltato nella Domenica della Divina Misericordia, seconda Domenica di Pasqua. È solo la sua prima parte. In realtà questo già sottolinea il legame profondo tra la risurrezione e l'invio dello Spirito, tra la Pasqua e la Pentecoste, che è in certo senso il culmine e l'ultimo giorno del tempo pasquale. L'umanità di Cristo risuscitato è la fonte perenne dello Spirito per i credenti, per la Chiesa. È vero, lo stesso Vangelo di Giovanni parla del fatto che già alla morte Gesù emette lo Spirito, ma in una forma più piena e in una forma che rimane ormai come paradigmatica per la Chiesa di tutti i secoli, è Cristo risorto, colui che dona lo Spirito. Questo Spirito evidentemente unisce il Padre e il Figlio alla sua fonte originale nel Padre, ma viene attraverso il Figlio. Ecco, il Signore Gesù dona lo Spirito ai Suoi discepoli. Anche vuole donare lo Spirito a noi e a tutta la Chiesa, e lo Spirito, sappiamo, agisce in modi misteriosi anche al di fuori dei confini visibili della Chiesa. E noi in quali elementi possiamo ritrovarci quanto agli aspetti sottolineati in questo Vangelo? Beh, sicuramente questo aspetto di chiusura e paura richiama molti aspetti, ad esempio del tempo presente, tempo caratterizzato da limiti, da delimitazioni, da restrizioni, ma allo stesso tempo tempo in cui tali paure sono presenti dentro di noi. A volte queste chiusure, l'essere chiusi per paura, non riguarda solamente una condizione esteriore o epidemiologica, quanto piuttosto una condizione interiore, ha a che vedere con quanto noi ci sentiamo amati, quanto noi ci sentiamo preoccupati. Lo Spirito di Dio vuole essere la reale risposta alle nostre mancanze di amore, mancanze di amore ricevuto, mancanze nell'amore donato. La vera risposta come presenza di Dio dentro di noi, che riempie la nostra solitudine e ci accompagna nei momenti di maggiore preoccupazione e paura. La liturgia della Chiesa ci chiama ad avere fiducia in questa efficacia dello Spirito di Dio, proprio per portarci avanti, proprio per donarci una rinnovata capacità di vivere da cristiani, nonostante tutte le numerosissime difficoltà che quotidianamente noi affrontiamo. La risposta di fronte alla chiusura e alla paura dell'uomo è che Gesù sta in mezzo agli uomini, Gesù sta in mezzo alla comunità che si riunisce, e sta come colui che è al centro, come colui la cui presenza è consistente e la cui presenza è centrale. Anche nel nostro vivere da cristiani, anche nel nostro celebrare, questa Pentecosta è necessario mettere al centro Gesù. Non sono tanto le nostre idee o le nostre parole al centro, ma questa presenza, questa forza, questa parola di Gesù, che è necessario che sia sempre più al centro della nostra vita, che sia criterio, che sia oggetto del nostro amore, della nostra attenzione, del nostro desiderio. Ed ecco, veramente questa presenza in mezzo a noi del Signore attraverso il suo Spirito fa differenza, cambia, trasforma i cuori, trasforma le cose, dona una rinnovata forza. Infatti, questo Spirito di Gesù, questa presenza di Gesù, che oggi si palesa in modo speciale attraverso il suo Spirito, ci dona la pace. La tradizione della Chiesa, e già la lettera ai Galati, menzionano esplicitamente la pace come uno dei frutti dello Spirito Santo. Abbiamo in noi la pace, ma non la pace del mondo, ma la pace di Gesù. Questo è un segno dell'agire dello Spirito Santo dentro di noi e tra di noi. Chiediamo al Signore che sconfigga tutte le nostre paure, che ci aiuti nel momento della paura attraverso il suo Spirito, in modo da poter vivere davvero questa pace che non è condizionata da circostanze esteriori, che non è condizionata dal fatto che i comportamenti altrui siano adeguati, ma è davvero una pace ancora più profonda. Il compimento della salvezza, la pienezza della relazione con Dio, e l'abbondanza dei beni che il Signore ci dona, e ce li dona con abbondanza. D'altronde lo Spirito Santo è il dono per eccellenza, potremmo dire, quel dono attraverso il quale ci arrivano tutti gli altri beni spirituali, che sono importanti per noi. E appunto un altro effetto dello Spirito Santo è che arrivi a noi il perdono, è importante, perché senza perdono il nostro cuore è come ancor più bloccato nelle sue paure. Non si tratta di fare il conto di quale coefficiente di peccati, secondo le nostre categorie di quantità o di gravità abbiamo commesso, si tratta di fare l'esperienza di essere salvati dal peccato, di sentirci perdonati, che questo perdono diventi una forza nuova per uscire allo scoperto, per vivere fino in fondo quella che è la nostra missione. E infatti la missione è un altro tema importante di questo Vangelo. Cristo è l'inviato, e anche lo Spirito viene inviato, e quindi i cristiani che sono ripieni dello Spirito Santo e che seguono Cristo, naturalmente anche loro si percepiscono come inviati. Signore, oggi dove mi stai chiamando? Questo è importante. A volte noi commettiamo l'errore di fare il processo inverso, cioè che prima facciamo il calcolo delle nostre forze e dei nostri ragionamenti, che poi dopo, una volta che abbiamo stabilito fino a quanto possiamo arrivare, chiediamo al Signore di farci sapere che cosa vuole, così in base a quel criterio di quali sono le nostre forze vediamo di agire. In realtà lo Spirito del Signore ci mette in tutt'altra prospettiva, è Lui che ci dice, ci rivela qual è la missione, dove ci manda, dove siamo inviati da Cristo, qual è la missione che Lui ci affida anche oggi, e in base a quella vedere come poterla affrontare. D'altronde il vivere da inviati è una potenza grandissima, è un dono immenso per poter vivere con un altro passo nella nostra vita, il nostro essere cristiani. Finché siamo troppo concentrati su ciò che pensiamo noi, su quello che ci sembra giusto, e ne facciamo un criterio assoluto, diciamo che il nostro cristianesimo sarà come un po' soffocato dai pensieri e dalle preoccupazioni, e anche un po' dal nostro timore delle nostre debolezze. Ma se davvero ci sentiamo come persone scelte dal Signore, inviate, che facciamo le cose non sulle nostre forze, ma nella forza del suo Spirito, davvero saremo in grado di vivere con tutt'altro atteggiamento, e davvero le nostre preoccupazioni saranno meno pesanti sopra di loro. Ecco, allora vogliamo davvero lasciarci invadere da questo Spirito, che sia in noi uno Spirito che ci aiuta a vivere la comunità, a vivere l'amore di Dio, a vivere la pace, a vivere il perdono, a vivere la missione di essere e di testimoniare di essere cristiani. Accettiamo noi questo Spirito che vuole compiere questo in noi, o abbiamo ancora paura che questo Spirito possa cambiare troppo, possa cambiare in direzioni che noi non possiamo gestire la nostra vita, che l'amore di Dio possa testimoniarci interiormente, appunto, che vale la pena di lasciare invadere la propria vita da questo dinamismo dello Spirito.